Eccone! Eccoli! Michelangelo! Dimmi! Bravissimi! E' grande parola di tutti e tutte le missioni, ecco qua, Anzali Calibandini, seguiti dalla nostra compagine, che avrete! Eccoli! Con le pelli di tasto in campanelli! E' meno sternelli! Ci vorono dei piccoli generosi! Eccoli! E' grande! La carava Emma, sotto la schiare, piuttosto che la schiare, e pari, i muscoli, si calciati i giorni! Grazie! Giovanni Stasca di Gietto, il patro! E' un'altra cosa che mi chiamate voi! 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 Belli, grandi, grandi uomini, ecco i pastori di Capri, ecco loro i pastori tardi, velocità, col posto velocissimo e anche un pochino meno serpato, ecco il cavallo Siculo. Dalla fungeria del rete delle due Sicilie, grande marcia, grande ritero e grande cavallo sempre a Ternano, di nuovo passano i nostri amici liberici. Dalla Spagna, dalla Andaluzia, con i loro moscheri, con le loro grandi crinieri inserciate, con le loro furenti cote, con le loro andature armoniose. Ventura, Juárez Fernandes, che vai con un bellissimo culetro, calentro, giurio piano, cavallo isparano, è un bellissimo passo spagnolo. Grazie a tutti.